Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, una storia di crescita personale e di sfida alle tradizioni opprimenti. Un percorso in cui molte persone, soprattutto donne, possono riconoscersi. Il tema principale è la ricerca della libertà e del proprio posto nel mondo. Il messaggio è chiaro, la libertà ha un prezzo e può richiedere di lasciare dietro di sé tutto ciò che è familiare. Ma solo percorrendo la propria strada è possibile costruire una vita autentica e appagante. Questa lettura è avvincente perché non è solo un racconto di crimine e vendetta, ma un viaggio attraverso la complessità delle ambizioni e della moralità umana. La trama del libro Libertà e donna della scrittrice Maria Antonietta Grande, pubblicato dalla casa editrice Bukabuk, è la seguente. A Rimini, Dalila vede il mare per la prima volta. Cresciuta in Puglia, ha sempre vissuto circondata da campagna e uliveti. Ora, seduta sulla sabbia durante una breve sosta del suo viaggio verso Torino, fa ciò che le riesce meglio. Scrive un racconto sul suo tacquino. E soffre. Ha lasciato la sua terra, i genitori e Mattia, l'uomo che ama. È scappata da una mentalità oppressiva che discrimina le donne, dalle bugie che ha dovuto raccontare per conquistarsi piccoli spazi di libertà. Ripensa alla sua benefattrice, la signora dei libri, come la chiamava da bambina, la donna che le ha regalato un sogno, essere libera. Torino sarà in grado di darle l'indipendenza che cerca. O il viaggio è ancora lungo? Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.